Alla tenuta di Suvignano, confiscata la mafia, si è tenuto il centro delle competenze sui prodotti agricoli e tradizionali ed è stato presentato il progetto Cambiovia, finanziato dall'Unione Europea e di cui sono capofila Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica. L'obiettivo è mettere in rete e promuovere un modello economico per le aree rurali basato sulla valorizzazione dei prodotti tradizionali, dei luoghi di produzione e degli itinerari collegati per attrarre visitatori e migliorare il posizionamento sui mercati, insomma rilanciare le comunità locali da un punto di vista culturale, economico e sociale, mettendo in luce i prodotti di qualità. I centri delle competenze sono quei luoghi dove si incontrano le migliori conoscenze degli attori fondamentali di un determinato settore per elaborare elementi di conoscenza intorno a questo settore. Le produzioni agroalimentari tradizionali della Toscana sono un grande potenziale che deve essere però in qualche maniera rimesso a sistema per poter essere valorizzato al meglio e al massimo. Sono produzioni diverse da quelle delle indicazioni geografiche, tanto che sono qualificate tra il patrimonio culturale italiano. I prodotti agricoli tradizionali, il cui acronimo è PAT, sono 461 in Toscana. Sono prodotti tipici locali diversi dai DOP perché frutto di produzioni più piccole e artigianali. Sono anche la sintesi di modalità di coltivazione, di tecniche, di sapienza e incorporano evidentemente molto più che delle proprietà organolettiche. In questo senso sono importanti. Un secondo motivo di interesse per chi si occupa di politiche culturali è che questi prodotti possano costituire, come alcune esperienze già dimostrano, anche il veicolo attraverso cui valorizzare aree interne, borghi e quindi intrecciare più obiettivi di politiche di sviluppo territoriale. Enogastronomia, cultura, ricerca e turismo insieme per rendere la Toscana ancora più fruibile. Noi abbiamo la fortuna di avere un grande sistema di promozione attraverso il sito Visit Toscani. Un progetto come Vetrina, una produzione su cui è inutile spendere parole dal punto di vista dell'eccellenza e della qualità, a noi ora la sfida è di trovare un modo moderno, contemporaneo ed efficace di raccontare la Toscana attraverso l'esperienza della sua cucina, dei suoi prodotti e delle sue tradizioni. Perché è esattamente ciò che cercano i visitatori, in qualunque ricerca emerge come il food, il cibo sia uno degli elementi centrali di un'esperienza turistica.